Niccolò Rotondo, inizio con una domanda molto diretta. Ti senti più responsabilizzato adesso che là davanti c'è qualche assenza in più? Ma diciamo che dopo queste assenze ci sono state, sì, diciamo di sì, sono pronto per mettermi in gioco. L'azione del derby, la tua personale, l'idea folle di passare tra tre, ci hai ripassato, solo che eri troppo decentrato a sinistra. Eh sì, è stata una palla un po' tra il difensore e me, sono riuscito ad andare sul fondo, però ero troppo decentrato, volevo cercare Benucci, ma è andata così, poteva andare meglio. Il mister che vi sta dicendo in vista di San Donato? Che bisogna fare la nostra partita, come sappiamo, aggressivi e non bisogna mollare niente come abbiamo fatto. Il campionato è lungo e ancora ci sono dodici partite e si può fare bene, sono convinto di questo. L'avversario quanto lo conosci? Ma le conosco come quell'altro, io guardo me, l'avversario poi vediamo. Due trequartisti alle spalle, come ti troveresti? Come pensi di poterti trovare? Hai visto questo 3-4-3 che diventa a volte un 3-5-2? Sì, sì, mi trovo bene, anche sabato è amichevole, l'abbiamo provato, secondo me può essere un bel modulo.